Ciao a tutti e bentornati sul nostro canale. Oggi siamo qui con voi per aprire insieme niente meno che Ticket to Ride edizione quindicesimo anniversario. È una scatola imponente e infatti è una versione celebrativa che oltre ad avere dei materiali deluxe che andremo a vedere ha anche delle dimensioni parecchio grandi. Infatti la possiamo vedere affiancata alla scatola di Ticket e alla scrittura ai germani come vedete c'è una bella differenza. Adesso andiamo a scoprire l'interno di questo super classico dei giochi da tavolo. Aprire una scatola come questa è un momento epico. Sempre che io di oggi ci riesca ma direi. Eccolo qua. Siete pronti a guardare all'interno? Allora abbiamo il regolamento. Andiamo a vederlo brevemente. e abbiamo il tabellone che è di proporzioni giganti. Adesso ecco magari lo apriamo solo in parte e poi più avanti lo vediamo totalmente aperto. Abbiamo la mappa che insomma chi gioca a Ticket to Ride conosce bene dell'Europa. Il tracciato dei punti intorno. E come vedete gli spazi per i treni sono molto grandi perché avremmo delle locomotive un pochino più più grandi e fatte meglio. Andiamo a vedercele. che spettacolo. Le scatoline tutte diverse dei vari colori con dentro i treni. Abbiamo anche il viola e visto che il mio colore preferito lo apriamo per primo. Sono molto contenta che ci sia il viola al posto del verde. Non che io abbia niente contro il verde ma quando c'è il viola nei componenti sono sempre molto contenta. e vediamo queste favole di treni. Eccoli qua. Sono bellissimi e ci sono anche le tre stazioni. Sono veramente spettacolari. Vediamo quelli rossi. Sono tutti diversi. Dicevamo che è una versione con dei componenti d'eccezione. Eccoli qua. Vediamo se trova anche una stazione. Eccola. Sono bellissimi e sono molto molto leggeri. Adesso prendiamo il blu. Sentite come suona bene. Eccoli qua. Questa ha dei vagoni divisi in due. È molto molto carina. In effetti è blu chiaro. Molto molto belli anche questi. Andiamo con il nero. suonano che è una gioia. Vediamo come sono fatti. Spettacolare. dove è la stazione. Eccola qui. La stazione. Vediamo un po' l'ultimo colore. vi ricordiamo che Ticket to Ride è un titolo per 2-5 giocatori. Non è giocabile in solitario. ed è tra l'altro un titolo che ha la caratteristica di piacere molto ai giocatori esperti. Ma anche di essere uno dei primi che si propongono a chi si approccia al mondo dei giochi da tavolo. ecco qua i vagoncini marroni. Anche questi sono bellissimi. la stazione. Ci si è incastrato un vagone. Eccola qua. Questi trasportano del legname addirittura. veramente belli. Tutti ordinati nelle scatole di metallo. Qua abbiamo i segnalini punteggio dei giocatori. il viola va un po' più sul fucsia. Ma comunque hanno anche le immagini che aiutano ad abbinarli al colore. e poi abbiamo le carte. Qua abbiamo obiettivi. e qua abbiamo le carte di gioco nei colori. Nel gioco sono presenti ben 220 carte. Iniziamo a vedere quelle colorate che si utilizzano per la costruzione delle tratte. Abbiamo tutti i classici colori presenti nel gioco base. con grafica rinnovata. colori e illustrazioni molto belle. Ed ecco qua la locomotiva che ha la funzione di jolly. Poi abbiamo le carte obiettivo che indicano le città da collegare. E ne abbiamo di tante tipologie. Perché in questa versione sono presenti sia gli obiettivi del gioco classico. sia quelli delle espansioni sia un altro paio di varianti che dopo andremo a vedere. e quindi abbiamo carte con icone diverse. Da utilizzare nelle diverse modalità di gioco. Però hanno tutte la stessa struttura con punti vittoria. e città da collegare. E abbiamo anche ovviamente quelle azzurre. Che se conoscete il gioco. Rappresentano gli obiettivi più difficili. Che danno un maggior numero di punti. E questa invece è la carta che assegna a fine gioco 10 punti vittoria. A chi ha costruito la tratta più lunga. Con questa versione di Ticket to Ride. È possibile giocare a ben quattro varianti. La classica che è identica alla versione base di Ticket to Ride. La versione Europa 1912. In cui si utilizzano degli altri biglietti destinazione. Che sono quelli dell'espansione 1912. La versione Mega Europa. Che utilizza i biglietti sia della classica sia di 1912. Tutti insieme. E in cui inizialmente i giocatori hanno a disposizione. Due linee lunghe. E cinque tratte regolari. Oppure le grandi città d'Europa. Una variante che utilizza i biglietti grandi città. Sono facilmente riconoscibili. Perché hanno tutte il logo nell'angolo in basso a sinistra. Quindi non avete problemi a distinguere i vari mazzetti. E semplicemente prima della partita. Durante il setup. Sceglierete quello che volete giocare. In modo da avere una maggiore varietà di gioco. Grazie per averci seguiti. Vi ricordiamo che potete acquistare Ticket to Ride Europa. Quindicesimo anniversario sul nostro store di fiducia Get Your Fun. Ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao! Ciao!